Entra anche tu nella Champions League dell'ignoranza, la strana coppia di Radio Bruno. Arriva come ogni lunedì il momento dedicato al bel canto italiano nel mondo, il tenore Patrick Salati. Patrick, ben alzato. Buongiorno ragazzi. Ricordiamo della cameretta. Patrick, allora attenzione perché io ho organizzato una cena in un ristorante di quelli a 6 stelle, non 5, 6 stelle, Pagaloris. Io sono già informato di questa situazione, non è proprio così, Pagaloris se perde la scommessa, se la vinci tu paga lui. Ah ecco, perfetto, benissimo. Infatti io poi dopo ti dirò anche quello che è, insomma, da scommesso ho fatto proprio due parole su una famosa musica del Poo, proprio per sancire questo vostro segreto accordo che sarà veramente di livello interplanetario. Vediamo, vediamo. Ho due dediche, la prima arriva da Paciughino a Cinzia per i 7 anni di matrimonio oggi, quindi complimenti da Paciughino a Cinzia. La seconda invece è la dedica internazionale che riguarda due personaggini da Kim Jong a Donald. Io ce l'ho a medio raggio, dice Kim Jong. Donald risponde io ce l'ho tanto. Quindi vabbè, stiamo parlando di missili, quindi cavoli d'ora. E poi c'è un'ultima dedica da Antonio a Massimiliano, siamo 3 a 3. Ecco, va bene, perfetto. Io invece voglio fare anche io un gran saluto a Marisa che è una tifosissima juventina. Tra l'altro vi segue sempre sull'app di Radio Bruno. Grande. Andrei proprio con questa bellissima canzone del book modificata per sancire questa bellissima scommessa. Vai. Dalla cameretta di Patrick Salati. Si fermerà la Juventus, dai scudetti in sei anni e di triplete lo farà. Enrico e Loris ci hanno scommesso, chissà chi vincerà. Se vince il reale noi a cena andremo, Loris lo pagherà. Se vince la Juventus, Enrico chiede scusa. Nella diretta radio, scusa d'allegri lui farà. Si fermerà la Juventus. Eccola lì. Bella, 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 bella idea. Bravo, bravo, bravo. Grazie Enrico. Io guarda di tutto cuore, spero che tu possa vincere la scommessa, così andiamo a cena. L'importante è mangiare gratis, sono d'accordo con il padre. Guarda Patrick, sei una persona meravigliosa, tu lo sai che hai un solo difetto. Guarda, vabbè, dai, va avanti. È milanista. Ciao Patrick.